Musica Telespettatori marchigiani, un cordiale saluto dal notiziario di TVRS. Dunque le marche per almeno due settimane saranno in zona arancione da domani. Questo almeno prevede il nuovo DPCM con più di un pizzico di amarezza espressa da parte del Presidente della Regione Acquaroli. Con tutte le conseguenze del caso ovviamente che abbiamo imparato a conoscere, ossia spostamenti consentiti senza autocertificazione solo nell'ambito del proprio comune, mentre al di fuori ci si può spostare soltanto per motivi di salute, lavoro o necessità. Chiusura di bar e ristoranti sette giorni su sette tranne che per l'asporto, negozi al dettaglio aperti, vietato circolare dalle 22 alle 5 del mattino, chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi con eccezione di farmacie, parafarmacie edicole, punti vendita di generi alimentari. Chiusi anche le palestre e di musei. Sostanzialmente comunque la curva epidemiologica non ha subito grandi variazioni, con 571 positivi nelle ultime 24 ore su 6.239 tamponi processati. La provincia di Ancona risulta essere ancora la più esposta ai contagi, con 175 casi, 132 nel maceratese, 111 in provincia di Pesaro Urbino, 63 invece sono i soggetti sintomatici. Aumentano purtroppo i ricoveri nelle terapie intensive, che sono attualmente 82, mentre il totale dei degenti con il Covid è di 669. La decisione contenuta nel nuovo DPCM di classificare le marche in zona arancione, insieme ad altre 11 regioni, è stata accolta con grandi recriminazioni, come accennato dalla Presidente Acquaroli. Sentiamo. Mi dispiace dovervi comunicare che da domenica saremo in zona arancione e lo resteremo per almeno due settimane. Temo che anche la terza sia da mettere in preventivo, ma attendiamo all'evolversi delle cose. La situazione è praticamente simile a quella di sette giorni fa, anzi i rilevamenti della settimana in corso sono in miglioramento, ma così è stabilito nel nuovo DPCM. Lo annuncia il Presidente della Regione marca Acquaroli su Facebook. Va bene essere prudenti, per questo anche noi avevamo deciso di rinviare l'apertura delle scuole superiori in presenza. Infatti già la zona gialla prevede diverse restrizioni, aggiunge. Tornare in zona arancione con un RT ormai stabilmente sotto a uno da un mese e mezzo Mi sembra un provvedimento eccessivo più che una scelta precauzionale. Sono amareggiate e dispiaciute e continuerò a fare di tutto affinché il Governo comprenda le nostre richieste e modifichi il decreto, ma sottolinea Acquaroli le norme vanno sempre rispettate, anche quando non condivise e questo è l'invito che rivolgo a tutti voi. Ricordiamo invece che sono Regioni Rosse, Lombardia, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano, in giallo Toscana, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e la provincia autonoma di Trento. Dalla giornata di oggi fino a fine gennaio i cittadini di Grottamare, Cupra Marittima, Massignano, Monte Prandone, Monzampolo del Tronto, Acquaviva Picena, Ripatranzone, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Carassai e Montalto delle Marche, in base al relativo calendario, possono effettuare il tampone anti-Covid-19 gratuito all'interno del programma di screening Marche Sicure. E preoccupa la situazione all'ospedale Carlo Urbani di Iesi, Giovanni Filosa ne ha parlato con il sindaco della città Massimo Bacci. Carlo Urbani, l'ospedale di Iesi, ha 80 pazienti Covid e sia la politica, ma non soltanto, anche la sanità stessa dice che non ce la facciamo più. Qual è il problema in questi giorni? Il problema è un problema oggettivo, dato dai numeri che lei elencava, e cioè c'è una situazione quasi ormai non controllabile, anche perché dobbiamo ricordarci che, ahimè, non ci si ammala solo di Covid, ma ci sono altre malattie e altri malati che devono essere assistiti. Il problema vero è che il numero dei malati Covid sta aumentando in maniera esponenziale e il nostro nosocomio non è più in grado di dare una risposta da questo punto di vista, tant'è che abbiamo anche di fatto fatto un appello alla stessa regione, perché Iesi ha un numero enorme di malati Covid che gestisce, diciamo nella provincia di Ancona ha solo Torrette, ma Torrette ha 90 posti letto Covid, insomma fatte le proporzioni, Iesi veramente sta sostenendo un peso insostenibile, e pertanto, come dicevo, è stato fatto un appello alla regione, perché si trovino soluzioni alternative al nosocomio di Iesi, che è arrivato al collasso da questo punto di vista. Siamo ad un punto peggiore di quanto eravamo fra marzo e aprile qui all'ospedale di Iesi? Siamo su quei numeri, ma con una prospettiva che è molto negativa, credo sì, forse siamo gli stessi numeri del picco della prima ondata, ma con una prospettiva molto preoccupante. Il governatore Acquaroli oggi ha scritto, ha detto, avevamo i numeri per diventare e restare gialli, politica e virus, quanto vanno d'accordo? Vanno poco d'accordo, perché la politica deve tener conto di molteplici aspetti, anche se ritengo che l'aspetto principale rimane comunque quello legato alla salute. Dunque, pertanto, quella è la criticità numero uno da risolvere, capisco il Presidente Acquaroli che deve tenere degli equilibri in generale, però la situazione è veramente complessa e immagino che le restrizioni, anche dal punto di vista degli indici che sono cambiati, sono molto più stringenti rispetto a quelli precedenti, fanno pensare che a livello governativo si hanno dei dati in particolare rispetto a quelli che potrebbero essere gli sviluppi della pandemia che portano ad obbligarci a rispettare restrizioni più incisive di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi, in particolare nella nostra regione. Ho il sospetto che probabilmente si andrà avanti in questo modo, perché è una situazione in questo momento insostenibile. Il Comune di Iesi, come tanti altri comuni, sta effettuando degli screening sabato, domenica e lunedì a Iesi presso il Palazzetto dello Sport. Quanto sono importanti questi screening, Sindaco Bacci? È un'iniziativa della Regione Marche che ha deciso di fare una sorta di screening di massa. In realtà lo screening è parziale. Nel nostro territorio sono coinvolti diversi comuni, compreso Iesi, per circa un'ottantina di mila di persone e siamo in grado di fare circa 6 mila tamponi. È comunque un dato importante, perché diventa un campione importante da verificare, è un riscontro di quello che è il dato del contagio qui sul territorio. Dunque è un controllo, una verifica che comunque va fatta e possibilmente, questo lo dico ai nostri concittadini, chi può, chi ha tempo per farla, visto che ancora non abbiamo raggiunto tutte le prenotazioni, sarebbe opportuno che si prenoti e faccia il tampone. Molto ampia oggi la pagina della cronaca. Tragedia lungo i binari in prossimità della stazione di Passovarano ad Ancono. Una donna di circa 30 anni, senza documenti, è stata travolta da un treno che viaggiava in direzione sud. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso, l'ipotesi più probabile al vaglio degli inquirenti è quella del suicidio. I carabinieri di Castel di Lama hanno arrestato un 22enne insospettabile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish ad un 28enne impiegato. Successivamente è scattata la perquisizione personale, quella domiciliare che ha portato al rinvenimento di altri 30 grammi della stessa sostanza e 10 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi. Anche la madre ed il fratello del pusher sono stati denunciati in concorso in stato di libertà. Ancora i carabinieri in azione, ma stavolta di Iesi ed Ancona, che hanno effettuato un controllo presso un'auto-officina di Iesi per verificare il rispetto delle normative ambientali in relazione alla gestione degli oli minerali e delle batterie esauste, oltre alle normative anti-Covid. Durante l'accertamento, l'attenzione dei militari è stata attirata da un forte odore proveniente da un confinante magazzino posto in un semi-interrato e riconducibile alla possibile presenza di marijuana. I carabinieri quindi hanno scoperto una vera e propria piantagione indoor di marijuana stessa, rinvenendo e sequestrando 1.255 piante, circa 8 kg di marijuana già essiccata, imbustata e pronta per la vendita, circa 800 grammi di cocaina, oltre 100.000 euro in contanti in banconote di diverso taglio, ed una pistola calibro 6.35 clandestina con 7 colpi, sono in corso accertamenti per verificare i materiali utilizzatori del locale. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina con tre automezzi a macerata poco dopo le 7 in via Ghinovalenti, la cosiddetta lunga di Villa Potenza, per l'incendio di un garage. Sono state spente le fiamme e messo in sicurezza il locale, non si segnalano persone coinvolte. A Fabriano invece, lungo la strada comunale Montecucco, in località Ponte Laspina, un'autovettura si è rovesciata rimanendo sulla sede stradale, coinvolgendo nel sinistro anche un palo della pubblica illuminazione. Anche qui l'arrivo dei pompieri è stato determinante per la messa in sicurezza dell'area. Due infortuni sul lavoro nella giornata odierna. Dopo un episodio ad Osima si è verificato un incidente, anche in una fabbrica di Tolentino, dove un operaio di 40 anni è rimasto seriamente ferito ad una mano, mentre stava utilizzando un macchinario. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto hanno allertato l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Le condizioni dell'operaio non sono comunque gravi. Sospensione del pagamento del canone Rai, la presa di distanza dall'iniziativa dei ristoratori che intendono comunque tenere aperto nella serata odierna, e la situazione politica attuale. Sentiamo l'intervista con il direttore di ConfCommercio Marche Nord, Amerigo Varotti. Da ConfCommercio Marche Nord è arrivata oggi una richiesta inoltrata ad altre associazioni, quella cioè di sospendere il pagamento del canone di abbonamento alla TV di Stato per il 2021. Molte attività alberghiere non solo hanno dovuto tenere le saracinesche abbassate, non offrendo alcun servizio alla clientela e dunque a loro volta impossibilitata di usufruire del servizio Rai. Amerigo Varotti è il direttore generale di ConfCommercio Pesro Rubino, lo abbiamo colto in macchina. Voi direttore parlate di balzello odioso in condizioni normali, figurarsi ora con la situazione un po' straordinaria, diciamo così, che stiamo vivendo. Mi sembra opportuno e necessario che per il 2021 non venga pagato, non venga richiesto il canone speciale anche per recuperare quanto in effetti pagato in più nell'anno precedente senza avere una utilizzazione concreta di questo strumento. In tal senso abbiamo fatto richiesta anche a Federalberghi, nazionale e a FIPE, finché ci sia un'azione a livello nazionale nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto conto che poi sono le agenzie delle entrate che si occupano del pagamento e della riscorsione di questo canone. Ecco, sull'iniziativa io apro di questa sera di alcuni ristoratori, se mi permette non ci siete andati molto per il sottile, leggo, iniziative populiste, demagogiche, illegali ed inconcludenti che danneggiano l'immagine della ristorazione ed anche della clientela, aggiungo io. Diciamo che siamo stati molto educati perché in realtà il pensiero di molti di noi era molto più aggressivo e pesante. Il legale è perché ovviamente i locali si aprono i locali quando devono stare chiusi per legge e noi siamo pur contestando molte parti dei DPCM delle chiusure obbligate dei ristoranti siamo rispettosi della legge anche perché in un paese dove si incomincia a non rispettare la legalità non si capisce dove si va a finire. Qui ognuno si vuole fare la propria Repubblica ognuno si vuole fare giustizia per conto proprio ognuno si vuole fare le leggi a casa sua e quindi è assolutamente illegale inconcludente perché non porta a nulla cioè non è che aprendo quei pochi locali che apriranno questa sera risolveranno il problema di un DPCM che invece magari ci riporterà in zona arancione o proseguiranno le chiusure dei locali pericoloso e demagogico perché ovviamente mette le imprese e i consumatori di fronte alla certezza di sanzioni economiche in questi giorni il capo della polizia Gabrielli ha mandato una circolare a tutte le prefetture e alle questure chiedendo un controllo serrato di questa situazione per il ripristino della legalità e quindi è ovvio che ci saranno sanzioni che bisognerà pagare ci sarà anche il rischio di denunce lo prevede il codice penale per attentato alla salute pubblica qualcuno incorrerà anche nel reato di cui è l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevedono la sospensione anche fino a un anno della licenza di pubblico esercizio un minuto le chiedo che giudizio dà di questa crisi di governo è anche un termine non del tutto appropriato secondo me che la pancia della gente non capisce cioè in un momento di una pandemia che è un'emergenza voglia dire qualcuna anche qualche parlamentare non siamo in emergenza perché le emergenze sono i terremoti fa ridere siamo in un'emergenza disastrosa abbiamo 6-700 morti ogni giorno ricordiamolo abbiamo migliaia di ammalati che affollano i nostri ospedali abbiamo una crisi economica spaventosa da qui non so quando ne usciremo ieri il governo stanotte ha fatto un ulteriore sforo di bilancio altri 32-35 miliardi che non so dove troveranno perché tanto siamo un deficit pauroso per cercare di aiutare le imprese di mantenere la cassa integrazione per i dipendenti quindi in una situazione come questa che è un partitucolo che ha nemmeno il 2% di voti di consensi che ha parlamentari che vengono eletti da altri in un altro partito che invece è al governo che sostiene questo governo che in maniera capziosa con motivazioni inesistenti inesistenti perché Renzi ha chiesto il MES che nessun paese europeo vuole attivare perché vuol dire mettere a rischio veramente il futuro del nostro paese come è successo in Grecia come è successo in Grecia e nessun paese europeo ha deciso di applicare il MES noi invece Renzi ci dobbiamo farlo ha chiesto il ponte sullo stretto di Messina come se fosse una delle emergenze del paese la ministra Boschi ha chiesto di sapere cosa ne è del porto di Trento come se a Trento ci fosse un porto ci fosse il mare cioè stiamo di fronte a delle sciocchezze perché c'è qualcuno che vuole delle poltrone importanti e si mette a repentaglio il paese in un momento così difficile quindi penso tutto il male possibile di questa di questa crisi e di questo avventurismo non so come si può dire di Italia viva che credo che dopo questa esperienza sia più più morta che viva e siamo alla pagina sportiva con la presentazione dei principali avvenimenti agonistici del fine settimana iniziamo dal calcio visto che sarà proprio Lascoli ad inaugurare il weekend domani alle 14 con la trasferta di Cittadella mister Sottile però dovrà fare a meno di Sabiri ed è un'assenza di grande rilievo considerate le doti del tedesco marocchino prima convocazione invece per i neo arrivati Pin e Stoian ed anche per il giovanissimo Franzolini non ancora disponibile l'ultimo acquisto Bidaoui diversi i giocatori esclusi per scelta tecnica tra cui Sinis Pendlofer Sarsi Puttini e Donis fuori anche Cavion al centro di diverse trattative di mercato formazione quindi assolutamente indecifrabile in un match comunque di grande rilevanza che segna la ripresa del campionato dopo la sosta in Serie C invece tre marchigiane su cinque in campo alle 15 di sabato per l'ultimo turno del girone di andata sentiamo tre marchigiane su cinque in Serie C scenderanno in campo già domani tra l'altro in confronti estremamente delicati che possiamo catalogare come veri e propri scontri diretti inizierà la fermana rivitalizzata dalla cura Cornacchini con due vittorie tre pareggi nelle ultime cinque gare al Recchione alle 15 arriva la matricola Lignago che talloni i canarini ad una sola lunghezza ed un pensiero anche al capitano Comotto che proprio nei giorni scorsi ha subito un'operazione di pulizia all'anca vedremo anche se sarà impiegato l'ultimo arrivato il centrocampista Giovanni Graziano dalla Provercelli che potrebbe dare un valore aggiunto importante alla squadra il Matelica invece si reca sul campo del Limolese con pagine in caduta libera reduce addirittura da dieci sconfitte consecutive compresa quella a tavolino con il Suttirol ma da non sottovalutare proprio per la sua necessità assoluta di riscattarsi non dimenticando che i romagnoli furono in grado di vincere a Padova per assicurarsi un futuro tranquillo e chiudere alla grande il girone di andata attendendo il recupero di mercoledì prossima all'Elve Recina con il Carpi una partita da non fallire per i ragazzi di Colavitto Fano con il morale altissimo per il quasi derby casalingo e contro il Gubbio al Mancini la vittoria di Trieste ha rigalvanizzato un ambiente dirigenziale che comunque ha sempre creduto nelle potenzialità di questo gruppo ferocemente determinato agli ordini di Flavio Destro ed ora rafforzato dall'arrivo dell'espertissimo centrocampista offensivo 35enne Federico Gentile in uscita dal Foggia il big match sarà senz'altro quello di domenica a Riviera tra San Benedettese e Padova una sorta di prova di maturità per il Rosso Blu mentre sempre alle 15 durissimo impegno per la Vispesero a Bolzano il tutto con il mercato sempre in pieno fermento abbiamo già anticipato i rinvii nel campionato di Serie D sia di Tolentino Campobasso che del derby Porto Sant'Elpidio Montegiorgio torna invece a giocare la Recanatese dopo il focolaio Covid che ha pesantemente ostacolato il cammino della compagine giallorossa che domenica riceverà al Tubal del Castelfidardo per una sorta di classica stracittadina nel basket invece dopo aver ottenuto la qualificazione nelle finalette di Coppa Italia dopo nove anni la Carpegna e Prosciutto Pesaro affronta nella prima di ritorno la gara di Sassari contro il Banco di Sardegna domenica alle 19 potrebbe essere un'occasione da sfruttare per i biancorossi considerate anche le assenze di Pusica e De Vecchi oltre a Tilman che è stato ceduto nella Dinamo le due squadre si ritroveranno poi a Milano per la gara di Coppa in Serie B invece ferma la Rossella Civitanova il calendario prevede la disputa alle 17 dei derby tra Sutor Montegranare De Supporter Siesi e Luciano Mosconi Ancona Aristopro Fabriano e vediamo ora le previsioni meteo per sabato 16 gennaio Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà il graduale allontanamento verso il Mediterraneo orientale della zona di bassa pressione che si è formata sul nostro paese a seguito dell'arrivo di aria fredda dalla Russia e così se controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese vediamo un netto miglioramento si allontana appunto quella prima perturbazione anche se nuovi sistemi nuvolosi cominciano ad avvicinarsi all'Italia infatti vi pronuncio che domenica sarà giornata all'insieme di molta variabilità però per questo sabato diciamo ampie schiarità anche come precipitazioni poco da segnalare qualche piovasco sarà ancora possibile all'estremo sud e qualche fiocco di neve nelle zone interne delle regioni meridionali ma fenomeni isolati quindi in definitiva sabato con ampie zone di sereno al nord e sul versante tirrenico invece diciamo un po' di variabilità ancora media adriatica e sud nuvole che vanno e vengono qualche piovasco comunque isolate qualche fiocco di neve fino anche a due o trecento metri di quota quindi il limite delle nevicate sarà davvero molto basso ma ripeto nevicate isolate però attenzione temperature davvero bassine e continuerà a soffiare anche parecchio vento al centro sud per tutti i dettagli sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo e siamo alla pallavolo domani alle 18 sfida numero 98 tra Cucine, Lube e Modena gara particolarmente attesa anche per la presenza di tre ex nelle fila giallo-blu sia Grebennikov Stankovic e Christensen una tappa comunque importante per la squadra di De Giorgi per cercare di tenere il passo o accorciare le distanze nei confronti della capolista Perugia che attualmente può vantare 5 punti in più in classifica in A2 femminile domenica alle 17 in programma il derby Balducci-Macerata Megabox Vallefoglia tra l'altro con punti in palio pesantissimi sia per le padrone di casa a caccia della pool promozione sia per le bianco-verdi che vorranno difendere la loro fresca leadership 10 punti conquistati nell'ultime 12 partite tra l'altro per le ragazze di Paniconi reduci dal recupero vinto al T-Break contro San Giovanni in Marignano con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione buon fine settimana